Ciao ragazzi, oggi è la vigilia di Natale e quest'anno abbiamo scelto di farvi gli auguri di persona direttamente da casa volocratis.org Ci tenevamo particolarmente perché in questo 2016 ci avete dimostrato tanto affetto, supportandoci ma anche sopportandoci Quindi vi auguriamo che sia un Natale speciale, che vi porti qualunque cosa desideriate, che sia ricco di serenità, di gioie, emozioni ma soprattutto tanti viaggi Buon Natale! Buon Natale! Ciao!